Ma stavo già registrando, ma ho scosso troppo il telefono, quindi devo cercare di stare attento. Bentornati dal vostro video, ragazzi. Sono qua su RoganTlics e Swipe, perché come potete vedere qua, tra 5 minuti cambierà la stagione. Facciamoci le ultime partite, quello che riusciamo a fare, prima che la stagione cambi. Sto registrando questo video anche completamente random, sia perché in questi giorni sono successe parecchie avventure, possiamo dirle. Non voglio raccontarle, ma posso dire che questo video lo voglio usare un po' per distrarvi. Per il resto, in questo aggiornamento che hanno inserito stamattina, hanno inserito la pittura bianca e la pittura nera sulle macchine. Quindi adesso è possibile farla in questo modo. Io direi, guardate, ci prendiamo questa bellissima Octane, che come potete vedere, anche se il cambio, la squadra resta comunque rossa. Ho subito a giocare prima che scada il tempo. Dai ragazzi, dove si va, si va. Ultima partita della stagione per un video completamente random. Allora, qua vi faccio notare un bug, che vi dico qua direttamente in edit, siccome là non c'era tempo. Come potete vedere, io sono segnato nel riquadro blu, però me lo dà nel campo arancione. Il mio avversario, invece, riquadro arancione, campo blu. In sintesi, ragazzi, il bug sarebbe che hanno invertito le posizioni di questi riquadri. Io dovrei stare nel lato blu e il mio avversario nel lato arancione. Invece sto nel campo sbagliato, ma tanto si correggerà quando inizierà la partita. Ecco, come vedete, io sono nella squadra blu, ragazzi, ma la mia macchina è rossa. È qualcosa di bellissimo. Adesso si può finalmente fare un colore universale. O meglio, soltanto se si usano le tinte bianche e nere. E partiamo col primo gol! Nice shot, mi fa l'amico. Eh, guarda, no, ho sbagliato adesivo. Grazie, amico, grazie. Ecco, gli ho dato l'impressione che mi dico nice shot da solo. No, 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 no. Ai, 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 ai. No, no, non la fai entrare, no. Ah, imparabile. Non ha l'esplosione e il gol, ma vabbè. Ah, in tutto questo ho capito cosa significa il suo nome. Ole! Grazie, grazie, grazie. Thanks. Oh, comunque per la prima volta un giocatore che non è tossico. O meglio, pure è vero che qua i tossici sono quelli che, secondo i fan di Rocket League, sono quelli che cominciano a spammare what a save, what a save. Però, voglio dire, finché sono adesivi o social trapide, che fastidio danno. Vediamo la rosicata e se qualcuno comincia a dirsi nice shot, nice shot, ops, sorry. Ecco, tipo questo. Vabbè, ops. Vai, vai, vai. Oh, accidentaccio. Nice shot mi fa questo. Thank you. Ma se lo dici da solo? Oh, meno male che ho detto che non eri tossico. Occhio. Vai, alzala, alzala. Ole! Au, 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 au. Ragazzi, siamo sul tre pari, eh. Speriamo che... Recuperiamo. Speriamo di recuperare, dai. Speriamo che recuperiamo. Macchinina rossa, dove vai? Cacchio, cacchio. Oh! No, ma qua ci sta tutto. What a save, what a save. Mi piace, amico. Avevi un'occasione davanti e te l'ho rovinata, scusami. Dove evitare che fa gol, perché se continua così posso anche smetterla io. Ah no, guarda. Risolto. Dai, amico, ce la puoi fare. Mi sta a piacere comunque. Vai, 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 vai. No, 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 no. Avevo paura per te, ragazzo. Temevo che ti saresti fatto gol da solo. Guarda, te lo concedo uno. Tieni. Questo è per te. Ho fatto apposta, amico, eh. Guarda, ti metto pure la faccina pevelice per dire che sono stato intenzionale, perché siccome mi sei piaciuto, voglio che vai avanti fino all'ultimo. Dai, su, fammi l'ultimo gol. Dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare, amico. Dai, che ce la fai, dai, che ce la fai. Dai, su. GG. Complimenti, amico. Bravo. Quadra blu, ma la mia macchina è rossa. Vediamo quanto manca. Ah, guarda, appena in tempo. Dai, è scaduto. Posso ancora giocare, posso ancora giocare. Mi sa che comunque adesso ci sarà l'aggiornamento. C'è qualcuno che anche adesso sta giocando morbosamente come me. Oh, amico, no. Spero comunque, ragazzi, che il Rocket Pass sia qualcosa di bello, perché per quanto possa essere stato bello questo della stagione 4, ho però da dire che, sfortunatamente, oh, no, 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 sta indietro tu. Ho però da dire, ragazzi, che sfortunatamente, ah, volevi. Posso concludere questa frase? Ho però da dire, ragazzi, che sfortunatamente nei regali argento ed oro mi dava sempre le stesse cose. Tanto, vabbè, questo ha fatto gol. Il tipo mi dava sempre le ruote barouche, oppure le chakram, le vedava. Cioè, alla fine, sempre con le solite cose, anche se sono verniciate, il Rocket Pass non attira tanto nel mandarla avanti. Andiamo con questo gol, che recuperiamo tutto. Occhio. Oh, che stupido, io l'ho spinta io. No, 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 ok, ok, l'abbiamo salvata. Allora, ragazzi, comunque non me la sto cavando male, eh. Non me la sto cavando male. Ah, mi ha trollato. Mi ha trollato, amico, ci sono cascato. Ah, mannaggia. Vai, vai. Devo alzarla un pochino. È dentro. Pam! No, no, mannaggia, oh. No, no, non te ne andrai, non te ne andrai. Ah! Mi sa che questa la vince lui se non faccio qualcosa, quindi devo stare attento. Guarda come te la paro. Sali, sali, sali. Pam! Ah! Ho preso la traversa o il palo, come lo volete chiamare. Questo gioco, essendo bidimensionale, non saprei come definire le zone delle porte. Ci mancava pure il lag, ma tanto questo non è una novità. Olè. E l'abbiamo recuperato. Dai, forse un colpetto così, ben piazzato e la manco. E vabbè. Ora ci riprovo così. Watchmoge Italia. Mi dispiace, ma non posso guardarti. Iaah! Tempi supplementari. E vabbè. No, 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 no. Aaaaaah! E niente, l'abbiamo persa. Dai, GG, ti metto pure la faccina felice per far vedere che non sto rosicando. Mi sei piaciuto. Bravo. L'avanti con Rocket Pass, anche se io non posso sbloccare niente. Voi sapere adesso com'è che andrà a finire, perché ho completato questo, ma non penso che... E infatti sì, non me lo sta facendo andare avanti, è una sfida vuoto. Stando al negozio oggetti, mancano otto minuti all'aggiornamento del negozio. Quindi mi viene da pensare che tra otto minuti il pass potrebbe rivelarsi. Tutto questo posso anche farvi vedere che la macchina è stata dipinta di nero. Saturazione al minimo, colore bianco. Luminosità al minimo, colore nero. Ci sono anche queste nuove ruote, le Raijin. Vedo che hanno il riquadro bianco come le OEM, quindi penso che sia stato un regalo. Tutti quei soldi sono dovuti al fatto che, siccome il Rocket Pass mi dava sempre le solite cose, ho rottamato tantissima roba e quindi ecco il risultato. Praticamente ho comprato mezzo negozio. Tutto tranne le lobo azzurre perché personalmente non mi piacciono. Cioè la lobo non è una ruota che mi interessa. C'ho quella lì originale ottenuta con Rocket Pass, ma per il resto non mi piace. E in tutto questo, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cosa mi dai? Scarafaggio! Che cos'è? Un topper? È terribile. Ruote stella Zafferano. Questi ci posso pure fare un pensierino. X-Face Nero! Quanto è bella questa! Poli Pop! Fa vedere com'è? Mazza! Niente ragazzi, il Rocket Pass non cinge ad attivarsi. Ma intanto... Oh! Hanno rimesso il volley! E qui tra le casuali... No, è tutto normale. Allora dai, facciamoci una partitina al volley. Magari si sblocca tutto. Dai ragazzi, con questa super macchina sarà qualcosa di bellissimo. Ah, che cacchio, quelli sono due botte. Vabbè, dai, ma contento. Dai, oh Clement, famigli vedere chi siamo! No, 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 no! Ah! No! Oh! Oh! Ma muti tutti! Piegatevi anche sto Tomizer verde, guardate quanto è figo. Allora ragazzi, devo stare attento a quando mi fomento perché... Eh... Scuoto troppo il telefono. Fatta Pim! Tagga, giù! E piglialo tutto! Piglialo tutto! E ti pone stagione 1 gold! Che adesso mi guadagnerò anche qualcos'altro. Mi sa che quello ci ha rosicato perché gli ho fregato qualcosa. Guarda, allora questo lo lascio a te. Ci pensi tu? Vai, vai, vai! Io ho un Clement! Vai, che ce la fai? Tanto questi sono bot e sono stupidi. E se vede, vabbè. Questo lo hai fatto tu, amico. Io non c'entro niente. Bravo, dai. Nice shot! Ragazzi, niente, le partite incredibili. Dai, buttalo giù! Olè! Guarda che schiacciatona! Eh, io non sono un campione di palla a volo nella realtà comunque. Carabando... Abbiamo vinto già! Abbiamo già vinto! Dai, è grandioso! E partiamo subito con Rocket Pass che... No, non va avanti. Forse è che prima devo... Devo sbloccarlo. Vediamo. Niente, ragazzi. Non si sblocca. Assolutamente niente. Non so perché. Sto riaprendo il gioco compulsivamente, sperando che... Mi dia qualcosa, ma... Non riesco a cavarne un ragno da un buco. Ora mi sposto lentamente, così mi metto anche in una posizione... Fuori! Si è sbloccato tutto! Oh, vediamo che cosa mi dai. Masamune! Che bella sta macchina! Guardate quante figa, regà! Robo Advisor che si sbloccherà a livello 1. E... Ma porca vacca, regà! Guardate che bello! No, regà! Ma guardate che bellezza! Ti direi, proviamo a sbloccare il secondo livello del Rocket Pass e vediamo se il gioco mi dà qualcosa. Abbiamo vinta, abbiamo vinta, abbiamo vinta! Oh! Che è successo? Ah, un'abbandonata all'ultimo, perfetto! E sono anche il miglior giocatore. Sta un po' laghicchiando, ragazzi, ma... Adesso so cosa comprarmi. Io ti direi questo Polipop, ce lo prendiamo. Olè! Mercato Nero Esplosione Gold. A me le macchine dipinte non mi convincono. Cioè, a meno che non sia qualcosa che non posso ottenere, le macchine dipinte non le prendo. La zaffera non mi piace, quindi dai, ci prendiamo anche questa. Scarafaggio no. E il Robovisor l'ho appena ottenuto, quindi è totalmente inutile. Infatti, ragazzi, come pensavo, la Cyclone sta qui, quindi è inutile che mi prendo una macchina dipinta di qualcosa che già possiedo. Se a voi piacciono le macchine dipinte, va benissimo, però a me personalmente no. Non le gradisco perché non è una pittura così irrilevante. E un bel Rocket Pass. Io direi, andiamo a prenderci questa Masamune, che per cominciare gli cambiamo nome. Ecco fatto, ragazzi. L'ho chiamata in questo modo. Facciamoci un'ultima partita utilizzando questa bellissima macchina e possiamo concludere il video. Facciamoci un delirio mutatore. Per concludere questo video andiamo in delirio mutatore. Allora, siamo enormi. La palla è piccola e quadrata. Bene, andiamo veramente bene. E mi sa che abbiamo i salti infiniti. Sì, abbiamo i salti... No, non abbiamo i salti infiniti. Ho anche fatto un assist senza neanche volerlo. Eh, chi se l'aspettava che qualcuno comprava quell'esplosione? Chi? Pam. Grazie, grazie. No, no, no. Ah! Potevo pararla. Vai di qua! Vai, vai, vai! Grandissimo il mio compagno di squadra. Ah, volevo farla di rimbalzo, ma ci sono pochissimi rimbalzi. E niente, sto laggando di nuovo. Ma grande! Un assist, dai, ma contento. Sì, infatti, non c'è gravità, ragazzi. Quindi non mi serve manco il turbo per spostarmi. No, 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 no! Ah! Questa è combattuta, eh. Questa è veramente combattuta. Vabbè, intervengo, eh. Vai, schiacciala, schiacciala, schiacciala! Ah! Ho fatto due assist. Dai, però, un punto lo voglio fare anch'io. Cioè, già l'ho fatto, però lo voglio fare anch'io. Fatemi rifare punto, per favore. Ah, mi ha raccontentato, dai, perfetto. Stavo tutto laggando. Ti prego, niente lag, niente lag. Abbiamo vinto, non so come abbiamo vinto. Non mi lags phase. Una sfida. No, ragazzi, me lo devo tenere doppio. Come non detto, la roba c'è. La roba c'è, vedete? Eh, qui ci sono delle cosette, però non ho visto la consegna, vabbè. Vabbè, ragazzi, il video di oggi termina qui. Spaccate di like, iscrivetevi, condividete, partecipate al sondaggio. Se non è ancora uscito lo speciale, non so quando uscirà questo video, ma nel dubbio, partecipate al sondaggio. E ciao, ciao! Ciao! Ciao!